Vabbè, comunque vi devo dire Al momento 16-17k forse Un qualcosa del genere abbiamo speso Solo 3 LF Di cui 2 Mirai Gohan e 1 Gohan Purple Nel pool di LF Forse siamo andati pure mezzi bene Potrebbe andare molto peggio Molto peggio Guardo il bicchiere è mezzo pieno Mettiamola così Fake out Trunks Trunks Deiss Rappi a lui Ah, ve l'ho detto Non sento la Proprio quella sensazione Non la sento Che non dice Vengo qui Spacco tutto Ed esco Proviamo gli occhiali Facciamo psicologia inversa Mettiamo gli occhiali Annusa il pan Annusato Profuma di pulito Perché lo lavo spesso Niente Sto togliendo E mettendo gli occhiali Continuamente Ma non va Non va Live bottata a Bladzy In base a cosa? Ma soprattutto Benvenga Se qualcuno Me la sta bottando Vai vai Bottate Bottate Non so se Perché qualcuno La sta bottando Magari Benvenga Vai Fatemi salire gli spec Si gode Buono 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 Allora Vai Le crono Scendono Bello schippo Fatto bene Fatto bene Fatto bene Fatto bene Radish Radish di merda Non lo sento Non lo sento Ma perché mi vedo sfocato Oh ma Le mortacci tua Broly di merda Ma perché non esce Quel cazzone Ma vaffanculo Broly Mi dimmerda Guarda Non mi incazzo Tanto per go Mi incazzo per Broly Eh cazzinculo Eh scusate Eh sono 4 lf Che ho trovato Da stamattina All'interno di questo banner Poche Attenzione Secondo me poche Per aver spreso quasi 20k Su questo banner Al momento A momenti Però cazzinculo Broly Esce una volta Mocca Mamma Mannaggia Broly di merda Ma vaffanculo Guarda Mi incazzo più con Broly Vi giuro Eh mamma mia Capisco che l'animazione Era carina Questa qui Della Genkidame Tutti i resti Va benissimo Però Broly Eh Sei proprio Uno Faccimmo sei Fatelo dire Proprio E che Mannaggia Guarda Una volta che Guarda Ma solo per Per il content Per il content Per il content Ma è uscito un Broly Così Ah Almeno C'è Matematicamente Una lf All'interno di questa Multi Sta per forza Di cose Mettiamoci Un po' Di speranze Non lo so Godiamocelo Un pochino di più Niente Proprio zero Niente Stasera è sofferenza Devo soffrire Va bene Grazie mille Tequ2434 Grazie per i sei mesi Carissimo E bentornato Sto pensando seriamente Di fermarmi Eh ragazzi Mamma mia Buono Buono Oh ste sette Comunque Vi posso dire una cosa Son mezzerotte Per il numero Per il numero Di sparking Cioè Non è la prima sette Che mi sono fatto Con tre sparking Dentro Però Lf C'ha potesse Caccia Vabbè Ci vuole la tecnica Occhialuta Broski L'ho messa Da un po' Sti occhiali Dai Li ho fatti Setappare A dovere Dai Quante volte Li devo mettere Setapp 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 agli ingressi Vai Setapp allo switch Guardate quante volte Mi sto facendo setappare Eh Setapp Tocca il portafortun Vai vai Tocchiamo il portafortun Toccato Guys Toccato Toccato Pelo di pri Vai Tutto Tutto Pelo di pri Non va Qualche giro di sedia Vai 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 Videl 18 Cabo di elefante Vai Cabo di elefante Vai Ancora Ancora Date Ancora Bacio al joystick Vai Dove sta Dove sta Eh Guarda Rosso Sto cosa Vai Bacio al joystick Vai Vai Fatto Spada Bardak Adesso esce una sparking farlocca dentro Ragazzi Faccio una cosa Madonna Meno male che l'ho schippata Madonna Meno male che l'ho schippata Meno male che l'ho schippata Guarda Ma meno male Meno male Mi sono cagato sotto E ho detto Oh mio dio Adesso va un'animazione pazza Non guardare l'animazione Va bene Va bene La prossima La prossima la faccio senza guardare l'animazione Immaginate Come fa Broly Animation Ci divertiamo Ci divertiamo eh Ci divertiamo Ci divertiamo Buono mi serviva sto con Ma che mi serviva In realtà non è vero che mi serviva Non è vero Questa non me la guardo Ma cos'è la 5? Eh buona la 5 Allora Super Saiyan Goku che gli fa la giravolta Che vince lo scontro Però non so se Super Saiyan Blue Non so niente Broly Trunks Non ce n'ho messo 3 ore Ma chi è? Nappa? Ah no Boo Ma sembrava quasi Nappa La voce Che cos'era? Era ghiacciaio? Ma dai Ma dai Era ghiacciaio veramente Dai immagina cacciare il ghiacciaio nella 500 Ma sento male Ma non ci credo Non ci credo Era ghiacciaio Va bene Va bene Freezer che evita i golpi Si sono acchiappati nel mezzo Ma chi è? Ma sei junior Grazie 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 mille per i 7 mesi Caro bentornato Dai Egg Blasi che lo trovi Ma Curirin Animazione pessima Che cazzo c'era in questa animazione? Ma che ci stava? Vai Andiamo Ok 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 Ah vabbè se me lo scocciato Che non posso guardare più Me lo scocciato e questa me la schippo pure E let's go Meno male che l'ho schippata va Ragazzi sapete che Sapete che Non so che mi faccio Solo un altro giro poi basso Sto Spendendo tantissimo Per quello che è il banner Ma pure per quello che è il personaggio in realtà Grazie Face Grazie per i 32 Mamma mia tantissimi Grazie Con tantissime Mamma mia 25k Sì 25k Sì 25k Sono tante Sono tantissime Vabbè Ti dico di sì Comunque non è la prima volta Sapete che io ho la LF di agosto La shafto Full power freezer Mi pare che era Fu di agosto E io la shaftai La differenza è che Su full power freezer Aspettate non è che la shaftai Io full power freezer Io full power freezer non lo toccai Ci feci un giro e basta Spesi 4k da full Da FPF Quindi non è vero Stai ripagando il debito di mageta Grazie Lorenzo Grazie per i 190 bits E grazie anche a Sandro Zambo Per te Per te alla prossima lo trovi Furizza Lo stanno a chiamare Adesso sento Conne e mi incazzo Sento la voce di Conne e mi incazzo Franxx Stavo per dir Poi Peggio ancora Sento la voce di Vegeta E mi incazzo ancora di più Era forse meglio la voce di Koan Non quello Red E ci avevo sperato Ci avevo sperato Sì Ci avevi fatto sperare Ci avevi fatto Grazie El Elo I'm Alfred Giusto Yt Grazie per il Prime Caro benvenuto Boisio Mi sa che mi faccio l'ultimo giro A sto punto Cioè Mamma mia Stai ripagando lo sculo a Mageta quando uscì Ma Mageta uscì al settembre? Eh no No Al massimo lo dovrei ripagare al settembre No 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 Grazie a tutti.